com'è fumare ok insomma dicevi leo i cori come si fanno a fare con la batteria oppure baffo come può fare semplice il ritornello e batteria ok sparisce a cappella a cappella ok a cdc al cazzo di cazzo a dick of dog quindi no possono mettere i beat bene sul blog sul blogs cotto è cotto che bene